Ebbene, questa è la nostra pagina dedicata all'integrazione magnesio e potassio. Diamo subito il buonasera e il benvenuto al professor Stefano Gervasi. Benvenuto, professore, ricordo, specialista in medicina nucleare, master in dietologia e nutrizione. Parliamo di due sali minerali indispensabili per il nostro benessere, magnesio e potassio. Perché li troviamo molto spesso associati? Perché sono molto importanti per l'attività fisica, per l'affaticamento e l'esaurimento muscolare. Ci aiutano l'atleta professionista e non la persona che vuole fare un po' di stile di vita per il benessere. Quindi da un punto di vista motorio aiutano a compensare la perdita di acqua e di elettroliti. E ci aiutano molto sull'adattabilità e resistenza fisica e quindi compensare la fatica acuta. importantissimi per il cuore perché una dieta ricca di magnesio e potassio e una, diciamo, integrazione di magnesio e potassio ci aiutano a ridurre il rischio di aritmia e ipertensione. E poi uno studio pubblicato sull'American Journal Clinical Nutrition dove ha preso in considerazione 4.000 pazienti del Regno Unito. L'integrazione e una nutrizione mirata con alimenti ricchi di magnesio e potassio ci è venuto incontro nel quadro di prevenzione osteoporosi, fratture e osteopenia. Quindi è importantissimo. È importantissima. Ma ci sono dei segnali che il nostro corpo ci invia per capire se siamo carenti o meno di magnesio e potassio? Allora, esiste la carenza di magnesio e la carenza di potassio. La carenza di magnesio si manifesta con crampi muscolari, fastidi muscolari, stanchezza, fragilità ossea, irritabilità, sbalzi di umore, ansia, difficoltà ad addormentarsi, difficoltà nel transito intestinale, costipazione. Se io invece prendo la carenza di potassio, sono sbalzi di umore, mancanza o minore riflessi, abbiamo insonnia, affaticamento ed esaurimento muscolare ma soprattutto crampi ai polpacci. Allora, ci sono degli integratori che vengono in nostro aiuto. Gli integratori, in quale momento della giornata devono essere presi? C'è una differenza tra magnesio e potassio? Sì. Allora, se io faccio un'abbinata di magnesio e potassio, da un punto di vista cronobiologico e cronofarmacologico, molto importante è, diciamo, da metà mattina a metà pomeriggio. Per metà pomeriggio intendo 17, 17 e 30. Perché aumentando da un punto di vista energetico, l'energia, rientrano nelle attività enzimatiche. Le attività enzimatiche sono le proteine che sono alla base dei nostri processi biochimici all'interno dell'organismo. E dando un po' di sprint alle nostre centrali elettriche, rischio in pazienti sensibili, se lo somministro magnesio e potassio la sera insieme, rischio un pochino di insonnia. Quindi 10 e mezza, massima la somministrazione, 17 e 17 e 30. Si possono trovare in compresse, compresse effervescenti, bustine, granulati, capsule. La cosa importante, quando io prendo minerali o integratori vitaminici, parlo sempre di porre l'attenzione sugli eccipienti. Cioè, meno eccipienti ho, più qualità del principio attivo è presente nell'integratore. Ci sono anche diversi tipi di magnesio, vero, professore? E a quel punto a cosa dobbiamo fare attenzione? Parliamo di carenza di magnesio, non stiamo parlando di carenza di magnesio. Allora, innanzitutto la fascia di età, il peso del soggetto. Se ci sono farmaci, terapie, farmacologiche incommitanti, quindi parlare con il paziente, parlare con lo specialista che segue il paziente. Perché chi fa terapia integrata deve interloquire direttamente anche con lo specialista che segue il paziente. decidere quale formula di magnesio è più adatta e di potassio è più adatta. Anche questo è molto importante, perché in commercio ci sono diversi tipi, per cui soprattutto il consiglio del medico è fondamentale quando si assumono degli integratori. L'integratore però principale è l'alimentazione, è il cibo. In quali alimenti noi troviamo questi due sali minerali? Allora, per il magnesio che è coinvolto in 300 reazioni enzimatiche, il secondo elemento più importante per la vita delle nostre cellule, noi abbiamo una miriade di cibi, tra cui riso integrale, spinaci, fichi secchi, sgombro, zucca, cioccolato, cacao amaro, burro di arachidi, anacardi, semi di girasoli, semi di zucca, semi di soia, anche se la soia nel paziente oncologico è meglio non farla assumere. Però abbiamo tantissimi vegetali a foglia verde. Per quanto riguarda il potassio, carne, pesce, lupini, moltissima, una quantità enorme di potassio, bisogna stare attenti se abbiamo pazienti che tendono all'iperpotassiopia, perché il lupino ha una concentrazione su 100 grammi notevole di potassio, quindi va controllato sempre con il medico che poi stabilisce una dieta o un'integrazione. Banane e melassa, quelli sono i cibi più ricchi. E questo è importante. Io, ecco, Andy, sentivo... con le uova, dove ti hai portato le uova? Un signore mi ha chiesto se nelle uova c'è magnesio e potassio, io ho risposto. E tu che cosa hai risposto? Non lo so. Le uova sono ricche di potassio, sono molto ricche di potassio, quindi fanno bene. E magnesio no? Magnesio molto, molto meno. Potassio sono... Per cui bisogna, come dire, metterle... Mettere in un'alimentazione adeguata. Diciamo che da un punto di vista, se ho difficoltà digestive, se ho degli organi che non mi funzionano, poi qui abbiamo un cuoco, che non mi funzionano in maniera corretta, l'uovo è meglio come torlo d'uovo, come sodo, e quindi sodo alla coca o l'omelette. La frittata la lascerei sul paziente che ha meno problemi a livello epatico intestinale. Quante uova a settimana possiamo... Grazie della domanda, Andy. Per quanto riguarda il discorso delle uova è inteso anche come patologia. Se parliamo su determinate patologie molto importanti, siccome sono ricche di determinati fattori di crescita, non ci possiamo, queste secondo le linee guida internazionali, non possiamo spostarci oltre uno o due volte a settimana. Per altri invece tipi di patologie o una persona in salute, due o tre volte a settimana non succede nulla a quel luogo. Possono, tre volte a settimana massimo. Sì, tre volte a settimana massimo. Vabbè, è piacevole parlare, ma dobbiamo... È una persona, sì. Grazie, professor Stefano Germani. Grazie.